Non c'è nessun risparmio, non c'è nessun piano industriale che possa sostenere il fatto che si risparmia. Infatti l'unico risparmio possibile non è creando ulteriori carrozzoni ma è proprio riducendosi mai. Quell'unione con Carmignano non piace alle opposizioni che siedono nel Consiglio Comunale di Fontaniva che di questo matrimonio non ne vedono il motivo, a partire dalla collocazione geografica dei due comuni. Dal punto di vista territoriale Carmignano si trova sulla zona destra del fiume Brenta e non ha nessun collegamento con Fontaniva tranne il ponte. Non c'è viabilità, non ci sono servizi, non ci siamo mai sviluppati verso quella zona ma bensì ci siamo sempre sviluppati sul Cittadella e sul Cittadellaese. Ma le perplessità sono anche altre e vanno oltre la tendenza di Fontaniva a guardare verso Cittadella. Io dico che c'è solamente una regione politica o prevalentemente politica perché questa amministrazione si era impegnata a metà mandato di sostituire gli attuali assessori con i nuovi consiglieri eletti che oggi fanno parte del Consiglio ma come semplici consiglieri. Il fatto di doversi dimettere da assessori di questo comune hanno bisogno di un altro contenitore dove potersi sedere. Quindi hanno trasferito nell'Unione dei Comuni una serie di mansioni dove questi assessori andranno a ricoprire le stesse cariche che ricoprivano oggi nel comune di Fontaniva. Nel frattempo la disponibilità di San Giorgio in Bosco e Cittadella all'Unione dei Comuni ha portato ad una convocazione dei sindaci dei comuni che fanno parte del distretto di polizia locale proprio a Fontaniva a lunedì prossimo.